Ragazze ascoltatemi, messaggio per muscoli che vivono in città, per tutti quelli che hanno le orecchie aperte sono pronti all'azione. Mi è appena stata fatta una richiesta, da parte dei Gremesi Riff, una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, quei ragazzi dei coglioni molli che vivono a Coni. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello. Warriors, come out to play. 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 E siamo di nuovo qui alla Dungeon Bear Radio, ancora con un nuovo ospite. Oggi vi portiamo il guido dei First Brawl e con me ci sono Lidia e Marco. Buonasera ragazzi. Come sempre, i miei speaker, le mie spalle del Dungeon Bear Radio, su cui imposa. Siamo, siamo tornati. Non si muola, non si muola mai qua. Grazie, ciao a voi, ciao a tutti gli ascoltatori e grazie per questo invito bellissimo. Ciao Guido, piacere averti qui. Un vero e piacere, grazie. E piacere è tutto mio, ma perché non mi vedete fisicamente, perché sennò non era poi tanto un piacere. Però è bello fare delle interviste sul divano in pigiama. Eh sì, sì, guarda, penso che siamo tutti nello stesso mood e speriamo che anche chi ci sta ascoltando sia nello stesso nostro mood di divano. Ci si metterà in travattina. Io ho la giacca. Esatto, sciogliti, sciogliti. Elegante. Siamo nelle, come dire, nelle serate importanti. Nelle serate sociali. Anche perché... Anche perché nell'era dei video e delle webcam di tutto in diretta noi rimaniamo solo voce. Quindi se non spierciate da qualche parte sui nostri social non sapete nemmeno che faccia abbiamo. Però sai come l'idea della madonna, eh? Organizzare un bel evento dove è obbligatorio presentarsi come si sta vestiti di fronte alla webcam. Bellissimo. Bellissimo. Credo che tutti avrebbero solo la parte di sopra, in sostanza. Esatto. E conosco tanti. Quindi vorrei ricordarvi un travaglio con la camicia e sotto tipo il boxer. Praticamente un momento di terremoto, lui che si alza e non si va di sicurezza. Sì, lozza. Stupendo. Ne conosco tanti, ne conosco tanti. Anche il mio chitarrista. E lo dico anche pubblicamente. Quando c'è valuto conferenze con il lavoro, lui tranquillamente giacca, cravatta, camicia, ma sotto aveva il pigiama con gli unicorni. Così l'ho detto pubblicamente. Grande. Ma la vera notizia è che c'ha un pigiama con gli unicorni. Posso garantire che è uno dei più belli che ha, guarda. Andare in tour con lui, posso dire che è un premio dei peggiori pigiama che ho visti in vita mia. Le hanno sdoganate Guido. Ormai sono hardcore anche gli unicorni, insomma. Sì, sì, sì. Capita spesso alle nostre serate di vedere qualcuno vestito di unicorno che vola da una parte all'altra. È molto bello, è piacevole da vedere. Esatto, esatto. Dai, diamo voce quindi stasera all'underground dell'underground, come dice Guido, per raccontarci un po' di ricordi e anche non solo ricordi, ma il pensiero del First Brawl. Diamo voce ai First Brawl questa sera. Quindi band hardcore modenese, corretto? Raccontaci come siete nati e com'è l'hardcore in Italia, che è un genere underground, di casa ad altri, ma che avete portato in Italia, secondo me, con un'ottima fattura e con lo spirito che ne vuole, insomma. Sì, voi, oddio, calcolando, permettendo che come genere possiamo vantare che l'hardcore italiano, e ci sono anche band come Negazione o anche Indigesti, che sono andati a fare tour in America negli anni 80, cantando in italiano. È una cosa che apprezzano molto, forse di più negli ultimi anni, ho notato che apprezzano forse di più all'estero che in Italia. È diventato molto più di nicchia che rispetto all'estero. Sembra brutto da dire, ma si fa molta fatica a trovare dati in Italia, ma anche prima di questa pandemia, e invece all'estero, diciamo, chiudere un tour è un po' più semplice, perché, diciamo, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, va molto più forte questo genere qua. E piace anche l'italiano all'estero, quindi questa è una novità. Mamma mia, ma sì, ma sì, ma sì. Cioè, è una cosa incredibile, ma anche ai tempi l'aneddoto che ho avuto conferma, anche avendo la fortuna di conoscere Mauro, il cantante dei Raw Power, che forse è la band... Certo, la nostra zona. Esatto, di Povigliese, è forse la band più famosa italiana del genere di tutti i tempi, esagero o no, direi di non esagerare. No, prima o poi ci arriviamo a Raw Power, adesso mi sto impegnando. Se ci ascoltate, prima o poi arriveranno. Non è una leggenda il discorso che c'era un giovane Axel Rose con i suoi Ganga Rose che apriva il concerto dei Raw Power, credo a Los Angeles, ed è vero, ho avuto conferma, sì, e Mauro mi diceva che si trovò molto bene con Slash perché è un buon bevitore, quindi ci si passa un po' a serata insieme e non ci si passa molto più volentieri. Non ci si annoia. Assolutamente no. È impressionante. Credo che non abbia perso il vizio. Sì, sì, ci sono un sacco di band che sono andate forte anche cantando in italiano. Forse la band adesso invece, che cantando in inglese, è andata forte negli ultimi anni italiana, gli Slender di Venezia, credo che loro abbiano raggiunto dei livelli molto molto alti per una band italiana di un genere di nicchia così, è raggiunto veramente dei livelli altissimi con tour anche oltreoceano molto belga. Bello, mi fa piacere, ma vedo sempre più questa cosa che si esce dal genere della propria nazione e si riesce a fare bene qualcosa che magari ti immaginavi che lo devi cantare in inglese, suonare in un certo modo. Invece noto che molte band italiane, ma anche francesi, che vanno nei generi non a loro consoni, ecco diciamo che uno penserebbe non consoni e riescono a fare scarpe a quelli di casa. Guido, posso chiederti come è nato l'amore per l'Harkor e poi la volontà, cioè come vi siete trovati come componenti di una band e avete deciso poi di mettere su un progetto come quello appunto che avete fatto? Allora, il mio amore per l'Harkor nacque poi, diciamo, io sono vittima dell'aver avuto 13 anni nel 94 con il Revival, Green Day, NoFX, Rancid e così, io sono stato completamente travolto da questo movimento qua e da lì non ne sono mai uscito, cioè è diventata praticamente una droga, poi pian piano entrando nelle varie sfaccettature, un po' di hardcore melodico, poi è arrivato un po' il new yorkese, la roba un po' più cruda, da me è sempre piaciuto scoprire le radici di questo genere e ho scoperto che proprio l'apice erano i primi anni 80, della roba pazzesca, è stata registrata della roba pazzesca, letteralmente. Credo che il periodo aiutasse soprattutto a New York in quegli anni lì, insomma è un momento, certi generi, chiamiamoli underground, vivono molto anche il momento societario in cui nascono o in cui hanno il loro picco più alto. E secondo me è il periodo Reagan, il periodo Reagan è stato molto importante come il periodo punk nel periodo Thatcher diciamo. Che forse è quello che dovrebbe succedere oggi, dove però insomma siamo, oggi una situazione odierna, 30 anni fa, credo che avrebbe fatto scoppiare molta più rabbia e avrebbe fatto nascere un genere per esempio, no? Invece oggi tendiamo ad essere più mansueti e quindi non mi scoppia il pezzone o appunto la rabbia magari sfogata nella musica di denuncia o comunque di voglia di far sentire la propria voce. Ma infatti è molto semplice scrivere, scrivere adesso su anche tempi moderni, non è che devi andare a ricercare una tematica in particolare del passato, basta che parli dei giorni d'oggi, non ti viene difficile scrivere. Poi quello che ho scritto sempre anche nei miei precedenti progetti, la vita di tutti i giorni, cioè non c'è bisogno di andare a cercare qualcosa nella fantascienza o nei film, purtroppo è tutto reale. Esatto, esatto, quindi insomma prendo la palla dal balzo, se vuoi dire qualcosa, i testi li scrivi tu? Sì, sì. Avete pezzi anche in italiano? No, non abbiamo mai fatto pezzi in italiano. Ah ok, è nei vostri progetti o scusami se ti faccio? No, perché i Brawl partivano proprio come progetto dalle ceneri degli Strange Fier, mio vecchio progetto, che mi ero portato dietro, infatti anche il chitarrista, e nasceva proprio sulla base, diciamo, facciamo qualcosa in stile terror. La base era proprio il terror di Los Angeles, abbiamo detto otteniamo qualcosa di così potente e è venuto quasi naturale fare tutto l'inglese e sembra che sia venuto abbastanza bene, diciamo. Io poi non sono mai contento di niente, io mi faccio, mi fa schifo tutto quello che ho registrato, io in vita mia, pensa, sono un po' autocritico. Abbiamo fatto adesso anche. Un po' molto. Sì, no, non sarò mai contento, non sarò mai contento perché poi comunque senza nulla togliere agli strumentisti però una chitarra quando è settata bene, hai un buon ampli, vai in studio, registri anche se c'è il raffreddore, non viene nelle registrazioni il raffreddore, la voce è un po' particolare, se in quel momento lì vai a registrare che non sei al top della forma non rimarrai mai contento. Ma io comunque non sono mai al top della forma, quindi è una costante, mi stegue. Ok, e quindi poi com'è nato il progetto, come avete deciso poi di fare musica insieme? Siete in quattro, giusto? Sì, sì, era il 2014, allora anche in compagnia tra una birretta e l'altra c'era un batterista che ho sempre avuto dei batteristi punk e hardcore, invece in questo progetto ho voluto prendere un batterista metal che venisse direttamente proprio dal metal perché volevo un altro groove, diciamo. Ok. E boh, mi è piaciuta molto la cosa, abbiamo fatto, abbiamo detto di quattro componenti, ho detto due diciamo che vengono più dal punk e due vengono dal metal, vediamo cosa esce fuori, fino adesso ho un disco e un EP che sono andati abbastanza bene. È una grande idea mi sembra, mi sembra ottimo. Non è facile, però vi garantisco, perché poi anche col cambio di formazione che c'è stato nel 2016 sono andati via il chitarrista e il batterista metal e sono entrati il chitarrista e il batterista metal, solo che sono più vecchi e quindi è più problematico, quando devi comporre vai sempre a incocciare che uno la vuole fare un po' più punk e chi la vuole fare un po' più metal, però poi il risultato un po' viene, diciamo che viene. Diciamo che sono più stabs, vi dai. Forse sì, forse sì. Io farei tutte le cose zozze proprio, farei proprio una zozza. Ottimo, vuoi dirsi qualcosa dei tuoi testi? Tu li scrivi direttamente in inglese o io da ex cantante, dico io li scrivevo, no io, vabbè, non vi dico tutta la mia tecnica che probabilmente è completamente... Dicela, dicela. No, no, me la dico, me la dico. La mia tecnica era questa. Ed è vecchia, sono passati anni, quindi facevo così. Io la inventavo completamente a caso, nel senso che lasciavo suonare la mia band, sparavo parole a caso in inglese, anche che non esistevano, di modo da mettermi in testa il suono di come volevo che uscissero le metriche. Facevo crossover. Poi me la riscrivevo, ovviamente avevo quelle tre parole, quelle parole chiave che mi erano uscite reali, e poi da lì partivo ed era un po' un peccato perché tra virgolette dopo, partendo da quelle parole, il testo doveva nascere. E ovviamente l'argomento e tutto quanto, però poi doveva inserire quelle parole lì. Quindi era un po' una tecnica al contrario, non so se si usa, insomma, a fare così. E poi scrivevo in italiano. Grande, mi fa piacere. Non c'erano i tutorial YouTube vent'anni fa, io sanno. No, assolutamente. Infatti vedo dei vent'anni che fanno paura suonare, però dico, cavolo, noi ci dobbiamo fare prestare il libricino, tutto consumato, qualche tab bruttissimo. Poi peraltro tirate giù male, invece voi avete tutorial su YouTube. Mi fa piacere, mi fa piacere. Si, avevamo meno accesso alle cose, vero? Di brutto, di brutto. No, io lavoro completamente a caso. Cioè, anche io parto da una base e dico, ok, questo qua lo ipotizzate come ritornello. Ok, comincio a bozzare un qualcosa di maccheronico a caso e poi anche io da lì ci costruisco il testo. Ok, ok. Adesso invece ti faccio la domanda scomoda, è una grande verità. Tu sei mai stato in live con un pezzo che desideravi da Dio, desideravi far sentire il pubblico ma non era finito e quindi l'hai cantato un pochino maccheronico? Eh, a voglia. Anche io, anche io. Confessioni. Gli amici più stretti poi soprattutto dicevano, ma avete portato un pezzo nuovo? Sì. Ma il testo, ma dove era? Avete detto, ascolta, c'era solo il ritornello, le strofere sono perdate. Grande, grande. Mi hai riempito il cuore, guarda, davvero. Grazie, grazie. L'ho fatto a Firenze, l'ho fatto a Firenze prima della pandemia, speravo che non se ne accorgesse nessuno, ma c'è un mio amico che è attentissimo. Allora mi fa, no, l'hai sparato a caso. Ho detto, alla grande, mi hai sgamato. Ma fa, meno male che mi hai sgamato solo te, però dai, ci sta. Ultimo, una volta un fonico mi si avvicina alla fine del soundcheck e mi fa, ma tu canti in francese? Interessante. Ho detto, no, io. In francese. No. Questo no, questo no. Ma perché? Cosa avevi detto in francese? Che ne so, non lo so, non lo so, davvero. Tra l'altro mi spaventò un sacco quel concerto perché aveva un impianto esagerato e si sentiva il respiro. Non mi è mai più capitato di avere un impianto così qualitativamente alto. Una bomba. E quindi mi sono spaventato perché è come essere in sala prove, se senti qualunque errore, anche la salivazione. Ma senti? Sì, 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 sì. E quindi questo evidentemente mi ha sentito in francese, no? Comunque. Beh, però è bene. Ne porto un bel ricordo. Molto particolare, sì. Dipende anche il tasso alcolico, non lo so. Può darsi. C'è uno slang particolare che può sembrare francese. Eh, sai, se sti ubriachi, è capace che sei in grado di parlare anche il cinese, il polacco, che sai. Sì, è vero, sì, sì. Può cantare anche il francese. Vengono delle cose strane. Mi approfitto. Non è mai successa una cosa così, no? Non è mai successa una cosa così. L'ex bassista in Germania gli parlavano in turco, sì, perché essendo calabrese docche molto oscuro, allora gli parlavano in turco pensando fosse turco, ma sul palco il cantare francese no. Bello. Mi collego al francese con una band underground che consiglio a tutti, sono i Rise of the North Star e sono una band francese che appunto fanno un genere completamente americano e loro stessi quando, in quelle poche interviste che potete vedere, dicono siamo riusciti a fare senza nessuno che ci spingesse un genere che non è il nostro, poi soprattutto i francesi, che già trovare il francese che sa l'inglese è un ago nel pagliaio, un genere americano fatto da un francese fatto perfettamente, grandi. Rise of the North Star, belli pubblicità. Sì, poi li ho visti anche dal vivo, loro sono veramente una cosa potentissima, sono molto potenti. Non è un genere che seguo molto, perché lo chiamo il genere un po' patinato, con le camicine un po' più fighine, diciamo. Sì, sì, va bene, un pochino più costruite. Però, come hanno tirato giù il progetto, è molto interessante, poi ti ripeto, dal vivo sono delle macchine da guerra, cioè tirano giù tutto, letteralmente tirano giù tutto. Era per l'esempio che portano, cioè della band con dietro nulla all'inizio, che riesce poi ad arrivare, insomma. E soprattutto di un progetto, come dicevamo, di un'altra nazione, non appunto abituata a quel genere musicale, che riesce ad arrivare al grande pubblico, insomma. Complimenti a loro, ma torniamo ai First Brawl, dai, Guido. Quindi, allora, abbiamo trovato queste analogie, io mi sono sempre sentito un alieno, perché non mi sono mai confrontato con un cantante che ancora cavalca i palchi, e mi hai riempito il cuore appunto di queste... No, tranquillo, c'è gente che calca dei palchi, ho visto, non posso dirlo, no, perché siamo poi, viene registrata, sta cosa in diretta. Però ci sono cantanti che portano le stesse canzoni da più di vent'anni dal vivo e hanno ancora i testi vicino alla spia. Quindi, non ti preoccupare che di Altarini io ne conosco, che ne conosco, però è giusto non dirlo pubblicamente. Però io i miei li dico tranquillamente, però... Eh, se vuoi raccontarci qualche redduto, qualcosa di... Per conoscere un po' la vostra band, un po' quello che succede, le dinamiche all'interno, sentiti libero. Oh, Dio! Siamo poi, diciamo, quattro operai semplicissimi che si ritrovano a fare baracche in sala prove e buttare giù dei pezzi. Non siamo dei supereroi, niente di eccezionale. C'è chi fa un lavoro più leggero che più pesante. Certo, però sarà successo durante i concerti qualcosa di... Non so, quell'aneddoto che vi ha fatto. Il posto più brutto, dai, prendiamo il... Capita a tutti, il posto che non ti aspettavi, proprio che nel tuo caso, come è successo anche a me, potrebbe essere un posto, ovvero un posto iper sciccoso che però tu non ti aspettavi perché tu volevi l'ambiente grezzo adatto alla tua musica. Ti è capitato il concerto che ti ricordi dove ti sei sentito più a disagio? Questo lo posso dire, posso dire anche il posto perché tanto è l'estero, sicuramente non ci stanno seguendo, però credo che il capodanno ad Hannover è stata una cosa fuori dal comune. Credo di, in 40 anni della mia vita, di aver visto poche di quelle cose lì, tutte insieme, ne sono rimasto ascioccato. E' stata una, diciamo che eravamo in tour noi, The Last Breath of Life, una band della bassa modenese molto beatdown, metallosa, potentissima, diciamo che il cantante è il mio compagno di Merende, con cui ero anche Sabato Bologna. Va bene, senza divagare, diciamo che eravamo verso fine tour noi e c'erano altre due band italiane, Antidigos di Bari e gli Opsin Revenge delle Marche, che saluto, che loro stavano iniziando il tour. Allora è capitato che a Capodanno solitamente non vuole suonare nessuno, dei local, e quindi in quel concerto gli siamo ritrovati quattro band italiane a fare il Capodanno ad Hannover. Il problema che era il Cupi, che è un centro sociale occupato ad Hannover e abbiamo visto gente con nuda dentro il carrello della spesa con dei razzi in un posto dove non batte il sole e che si lanciavano tutte le discese. Ero i nomani che si lanciavano i cucchiaini. È la prossima copertina del lato. È una copertina di un alco, beh, questa. Però aspetta, tutto condensato in quattro dita di melma, perché pioveva dentro, non si capiva assolutamente niente e c'era un punk di due metri e cinquanta, era un dinosauro enorme che quando poggava cadeva perennemente sopra il mio batterista. è stato letteralmente un delirio dall'inizio e lo fine. Credo che ci sia anche un filmato sulla nostra pagina di Facebook di un mezzo pezzo registrato lì e vedete che c'è il chitarrista che suona dietro la cassa della chitarra per la paura della gente che gli vada addosso. C'è stato un delirio, è stato un delirio, poi era a Capodanno, non ve lo dico neanche come è finito. Quindi a Capodanno si esagera. Sempre. Guai, guai non esagerare. Vai, vai. Petardi dove non batto il sole, quello è un modo veramente di esagerare un po' hardcore. Quando dici ho fatto il soundcheck, adesso vado fuori, mi fumo una sigaretta in tranquillità, mi riprendo un po', ti vedi passare questo carriere della spesa con uno dentro. E' qualcuno che sta peggio di noi, dai. Indubbiamente, indubbiamente. Sì, sì, ci sono tutte queste storine da tour, ma sono carine, poi vabbè, vai verso i Balcani, ti chiedono sempre il pizzo in dogana, perché non è un'abitudine italiana, soprattutto lo chiedono all'estero agli italiani, perché sai... Parlo a smontare tutto il furgone. Esatto, dai, mi molli 50 euro e sono posto così, ti costa un po' di più la tragitto, però... Quando hai la macchina pressata di strumenti e alla dogana ti dicono tira fuori tutto, è un successo. Mamma mia. E piove, o nevica. Delirio. Delirio, sì. E quindi invece, il posto più bello, dove avete girato? Europa? O siete andati oltre? Europa, solo Europa. Sfortunatamente solo Europa, in progetto c'era da andare anche fuori dall'Europa, solo che ovviamente bisognerà tutto ricalcolare, rifare tutto, da 5. Abbiamo sentito anche agli altri ospiti che avevano, erano nel, sono tutti più o meno in un buon momento pre-Covid appunto e poi purtroppo con la pandemia hanno dovuto rimandare certi progetti, insomma. Sì, infatti, postecipiamo l'uscita del disco di poco più di un anno, diciamo, di 14 mesi. Inizialmente lo volevamo buttare fuori alla fine del 2020, invece uscirà, se tutto va bene, marzo-aprile del 2022. Quindi figurati. Ci siamo, dai, ci siamo. Sì, ci siamo. Perfortunatamente abbiamo detto vada come vada e pandemia permettendo, però intanto buttiamo fuori anche perché per noi sta cominciando a diventare roba vecchia. Allora vogliamo, diciamo, chiudiamolo, mettiamo fuori il disco e speriamo di riuscire a portarlo in giro come si faceva pre-pandemia perché anche il 2020 per dire tante band lo buttano via ma noi con le sei date che abbiamo fatto da gennaio a fine febbraio quando hanno chiuso ero già contento di tutto il 2020 perché siamo riusciti ad andare per la prima volta in Francia, a Marsiglia che organizzava un ragazzo di Torino, lo zio Cico che è una persona non squisita di più e poi siamo andati anche in Spagna che ero molto titubante nell'andare in Spagna perché ho detto Spagna se fai un po' più diciamo ska, punk rock, uoi, anche dell'ui sicuramente sfondi una porta aperta sai che c'è pienone. Ho detto l'arcoro ho detto io da quel che so non vai in Spagna e invece tra Barcellona e Tarragona abbiamo fatto pienoni in tutti e due i posti venduto un sacco di merce la gente era carica stage diving ai giovani io non li faccio più stage diving io riesco a dare la carica se vogliono gli do la carica io di più non posso perché nella mia misera carriera ho già sei costali incrinate non tutte insieme fortunatamente però un po' di arti tu me fatti ce li ho quindi faccio buttare gli altri dal palco e là poi bisogna per forza fare un passo indietro sì hai messi hai messi infatti abbiamo fatto anche l'ultimo ti chiedo un posto in cui vi piacerebbe suonare che ancora non siete riusciti non l'avete in data ma vi piacerebbe non so quel locale in quella città è facile torniamo all'inizio dell'intervista il sogno della band hardcore italiana è forse andare si può dire andare in america a fare il culo è loro che l'hanno inventato però però un doppio l'esager su New York è che diciamo una cosa così però sono contento perché anche come band come punk hardcore non so se li conoscete Svetlanas non so se li avete mai sentito nominare loro vanno via tranquillamente vanno in tour in america regolarmente e dicono che dalle recensioni sembra che gliel'abbiano aperto gli americani sì 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 anche perché c'è Olga la voce che è un'assassina proprio è un'indemoniata e poi a parte che vantano anche collaborazioni con Nicoli Viridi qui in Stone Age dei Caius al basso sì 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 hanno fatto anche un disco ha registrato perché lui era non so adesso forse tra la botoliera forse tra il pubblico così si è innamorato di loro voglio suonare con voi ha fatto anche dei tour con loro bello bello me lo auguro la cosa bella dell'America è questo che poi alla fine è semplice magari venire a contatto anche con personaggi importanti no da un punto di vista musicale perché molte band stavo pensando che molte band in effetti sono diventate famose perché magari tra il pubblico c'erano altri musicisti di altre band già famose quindi poi hanno avuto la possibilità di aprire concerti o poi essere diciamo invitati verissimo a volte sono proprio gli incontri casuali a noi in Olanda in Olanda per dire in una data c'era il chitarrista dei No Turning Back che è una band che secondo me a livello di hardcore degli ultimi dieci anni è tra le migliori in Europa olandese lui era in giro a caso ha detto c'è un concerto hardcore ci è venuto a vedere e quando i No Turning Back sono venuti in Italia fortunatamente abbiamo aperto noi il loro concerto a volte è un movimento talmente di nicchia che anche quando noi tra virgolette pensiamo che quella band lì è inarrivabile invece non è vero ti ci siedi al tavolo ci parli tranquillamente questa è la cosa più bella un movimento che si aiuta ancora tra loro si è umano bello davvero figo anche con le varie crew ho notato con Under Noise Modena Crew per dire abbiamo organizzato quel concerto il 6 novembre che non avevamo potuto suonare per problemi di salute e c'erano i ragazzi di Ferrara per dire che hanno detto ah no abbiamo visto che è organizzato un bel serratone noi non facciamo niente però organizziamo un festival dopo voi fate qualcosa e noi gli abbiamo detto ovviamente no se fate il festival noi non organizziamo cerchiamo di collaborare visto che siamo pochi a seguire questo genere di non crearci tra virgolette concorrenze sposti il pubblico giustamente non lo dividi ma lo sposti sì sì infatti è molto bello nell'ultimo anno c'è stato un po' prima c'era più diciamo il movimento punk bolognese gli hardcore moddenisi adesso c'è più misticanza un po' io vado alle serate loro loro vengono alle serate nostre è molto più bello adesso bello secondo me è bello essere anche un punto di riferimento appunto per un genere e avere appunto una rete tra virgolette di movimenti che sai che appunto si chiamano oggi facciamo un festival di qua facciamo di là bello bello sì 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 poi tante band guarda che potrebbero chiedere un occhio della testa come rimborso invece si accontentano di poco e anche soprattutto quando c'è capitato l'occasione anche molti centri sociali non avevano la possibilità di riuscire a pagare un affitto perché ci sono tanti che hanno preso dei capannoni in affitto e giustamente si faceva qualche benefit così e c'era tante band che venivano anche da lontano dire no è un benefit dobbiamo raccogliere dei soldi per pagare l'affitto come in Sintilla abbiamo fatto un benefit per mettere a posto il tetto perché pioveva dentro e abbiamo messo a posto il tetto e fortunatamente si riesce perché la gente dà una mano anche per quello purtroppo qua i centri sociali da me sono scomparsi quindi è una realtà che non conosco più insomma è una realtà che forse anche in Italia si è un po' persa e mi fa piacere che che li riesci a vivere insomma che ci sono ancora dei posti dove si può fare qualcosa insomma ebbene sì possiamo dirlo tranquillamente anche i più giovani che ci sono dei posti dove quando basta scoprire il giorno dell'assemblea pubblica e anche se uno è giovane e dice no ma io ho 18 anni se propone una cosa interessante la si fa perché no anzi visto che è giovane gli si dà una mano e se viene un giovane a dirmi guarda Guido sei diventato vecchio vorrei organizzare io gli lascio tutto in mano volentieri largo i giovani no però sì dai gli si consiglia io mi ricordo quando ero in Monello che era il fast wind della Sassuolo e per dire c'erano quelli più grandi che io guardavo con ammirazione non si sono mai fatti preclusioni perché noi eravamo più giovani e organizzavamo i concerti anzi ci dava una mano diceva voi non siete buoni a collegare un impianto vi colleghiamo noi l'impianto è sempre stato così un po' questo movimento ci sta dando una mano se a me va un ragazzo di Italia e dice no se a me state sbagliando tutto io lo ascolto poi va a finire che poi pensa che oggi potresti mettere in piedi mini studi e registrazione insomma con il digitale la radio tantissime cose che noi non avremmo potuto fare insomma in un centro sociale di vent'anni fa ma adesso guarda una volta la cosa brutta dei centri sociali per dire che non c'era mai un impianto decente adesso cominciano ad esserci dei belli impiantoni anche a Stella Nera per dire con gli ultimi concerti di Under Noise che abbiamo fatto siamo riusciti a comprare anche una bella cassa una bella Brunetti una bella cassa per chitarra l'impianto voce era già stato potenziato adesso la gente quando viene a suonare dice cacchio cioè c'è la strumentazione valida anche perché se una band è pompa deve pompare non deve stare lì vuol dire tanto esatto ragazzi il disatto vai 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 per la tua esperienza per la tua osservazione in questo momento storico che dicevamo anche prima che c'è un calo bello visibile un po' in generale no? anche nelle nicchie vedi questo calo o un po' meno ti faccio questa domanda perché di solito le nicchie sono sempre quelle che sono rimaste dure pure avanti tutta qualsiasi cosa accada là fuori di solito l'underground è sempre stata abbastanza dritto per dritto invece in questo momento come la vedi pensi che sia sempre così o trovi che anche le nicchie si stiano un po' appannando? non c'è molto ricircolo ne parlavo ne parlavo proprio sabato anche con un negoziante di dischi gente che organizza concerti e dico ok noi organizziamo è tutto però purtroppo la media di giovani che mi piacerebbe vedere di più i concerti non c'è e siamo sempre tra virgolette noi vecchi dico sempre la media non c'è il cambio generazionale non c'è il cambio generazionale siamo tutti da 35 anni in su cioè non vedo adesso con i concerti di under noise pian pianino vedo che qualche giovane si sta avvicinando però vedo che notano aspettano il dj set alla fine a fine serata più che vedere la band vogliono saltellare con della tecno probabilmente probabilmente non c'è quel cambio generazionale lì però non lo so poi spero di essere smentito in breve di questa cosa qua però sì ho notato che è un po' è un po' in calo sì anche la media anche nei concerti anche per covid notavo che la media nei concerti è una media molto più alta cioè comunque dai 35 anni in su sotto non vedi 20 anni che ti ci vado a vedere con la mia compagna Nick Haven The Bad Seeds la media era io mi sentivo molto giovane ma molto giovane ero lì dicevo facca boi guarda lì nonostante ho detto una 40 ho detto barba bianca sembrava buona poi ho detto qua ce n'è di gente ho detto che è vintage ma può essere che noi dovevamo tra virgolette sceglierci un genere perché quello che avevamo a disposizione non era il tutto che hanno oggi cioè tu oggi apri Spotify o apri internet e hai tutto ok quindi avendo tutto puoi saltare da un genere all'altro mentre noi eravamo vi ricordate il discorso che volevamo fare delle fasi abbiamo tutti vissuto delle fasi poi magari tu Guido ti sei fermato alla fase punk rock che l'hai evoluta in hardcore poi ti sei fermato lì tra virgolette mentre altri sono passati dal metal al grunge poi dal grunge al crossover al new metal eccetera però avevamo le nostre fasi e quando andavi a comprarti l'album te lo sudavi come dicevamo qualche puntata fa con Marco anche via facevi il tuo viaggio ti portavi a casa l'album e te lo sentivi decine di volte e lo ascoltavi bene era una conquista iniziavi ad identificarti in un genere quindi passato quel disco nuovo ne cercavi un altro di una band simile perché magari quello di quella band ancora non era pronto li avevi sentiti tutti adesso invece ti senti un brano di un genere e poi potresti passare a un brano di un altro non riesci a crearti tra virgolette o meno sei più portato a distrarti dalla creazione della tua identità perché corre tutto nettamente più veloce parlando con il ragazzo ormai il ragazzo lo chiamo ragazzo 52 anni di Metal Factory a Bologna e mi diceva è proprio quello usciva l'album degli Slayer a metà anni 80 c'era gente che per 3-4 anni ascoltava sempre quel disco lì solo quello anche perché il mercato ti propinava massimo 3-4 band a tema di quel genere lì usciva un disco ogni due anni quindi c'era un lasso di tempo che era molto più ampio io ho notato anche una band che ha molto hype termine che usano i giovani quindi vedi che sei giovane vai tranquillo ci provo non so se li conoscete gli Idols idles simpatici carini e tutto loro stanno per uscire col secondo disco in un anno perché questo è il mercato come fruibile adesso perché se no poi cara l'interesse e la gente non se l'ascolta più poi prima c'era l'etichetta discografica uno diceva boh io vado a garanzia vado su quell'etichetta discografica lì so che 3-4 dischi all'anno anche di generi svariati ma quell'etichetta discografica è una garanzia adesso c'è il canale youtube adesso è se prima erano in 5 a farti scegliere la musica adesso sono in 5.000 io credo che il problema sia un po' quello il fatto della sovrastimolazione e quindi a volte ci rende penso che sia un problema che un po' tutti abbiamo oggi il fatto che poi diventiamo automaticamente pigri e quindi un po' ci facciamo pilotare da quello che poi è il mercato discografico quindi avendo a che fare anche molto con i giovani mi rendo conto che tante volte non c'è quella curiosità che magari avevamo noi esatto prima c'era solo la radio che ti sparava il pezzo commerciale non avevi altre fonti di influenza e ascoltavi il tuo amico che ti diceva ma lascia lì di ascoltare quella roba qua senti Nirvana la prima volta che mi hanno detto Nirvana ho detto ma chi sono questi qua dai o i Metallica ragazzi la mia figuraccia quando mi hanno detto i Metallica ho detto questa parola che suonava italiano ma era una band a me mi stonava da dio ma dai cos'è poi mi apro il Black Album e mind blowing non fa una piga oggi invece chi è che ti influenza perché quello di fianco a te anche lui non ha se non ha un fratello grande o un padre che lo ha indottrinato anche lui viene bombardato da generi completamente diversi singoli video anche lì come dicevi tu Lidia che facevi fatica a conquistarti il video su MTV perché non la prendevi dovevi aspettare la videocassetta io non la prendevo nemmeno più ma infatti vivevo di racconti io vivevo di racconti sì sì è vero avevi i tuoi amici e dicevano guarda io ho visto quella band si chiamano così e sono fighi ho detto guarda io di te mi fido loro sono fighi eravamo poco influenzabili dall'estero da chi pilota la discografia però è anche vero che avevamo magari io parlo per me avevo comunque il mio vicino di casa che era come un fratello che era un metallaro quindi mi passava tutti i suoi album avevo mia sorella esatto che figata diciamo che sono stata fortunata sotto questo punto di vista perché avevo già gente più grande che mi ha passato musica buona per fortuna ottimo e quindi ho avuto possibilità di approcciarmi da subito con un genere come dire non usuale però però devo dire che oggi questa cosa è un po' difficile da trovare io posso dire che a sud c'è una cultura musicale nettamente più più figa del nord si può dire questa cosa forse perché vivono la musica fin da piccolo c'è più musica in casa credo secondo me è questo il problema il fatto che noi non abbiamo mi ho parlato spesso con i ragazzi noi non avevamo antivino non avevamo tutti i vari canali musicali quindi tutto era tramite passaparola c'erano pochi negozi di dischi ancora da me ci sono pochissimi negozi di dischi per trovare non so quello più grande devi andare non so alla Feltrinelli di Bari però già su Matera per dire io parlo della mia zona non ce ne sono quindi ci sono ancora i rivenditori piccoli che vendono vinili o comunque cd ma sono pochi quindi devi addirittura andare ad ordinarlo che si è rimasto è vero si è vero è verissimo un approccio vintage ragazzi vi invito a tornare a Matera per questo momento andremo a suonare anche a Matera dai dai esatto è colpa del caro gasolio e del caro autostrade perché è più facile andare a suonare a Berlino che arrivare a Matera è vero come band è un casino a livello di costi noi diciamo che noi non facilitiamo le cose visto la mancanza della sport ma vabbè quella è un altro un paio di maniche torniamo a parlare di voi è più interessante quindi il ricambio generazionale può soffrire insomma un po' anche di questo e voi tieni presente Guido che appunto riuscite comunque a tirare un giovane ma quante città non hanno un centro sociale non hanno uno anche che non si chiami centro sociale non hanno uno spazio dove andare da qualcuno più grande e dirgli non ho soldi tu hai il tuo impianto audio lo posso usare posso posso suonare nella tua saletta a un prezzo budget per un ragazzino che vuole inizio posso affrontare un corso di batteria gratuito ok vero vero cioè sono sono pochi punti nel nostro paese dove puoi accedere a un servizio del genere purtroppo c'è è vero un servizio come offri tu Marco per esempio cioè con i rulli frulli e tutto quanto sono progetti che si contano sulle dita di una mano non è sì sì è vero ma anche perché tipo a me sembra di vedere che si ha proprio cambiato l'interesse nei confronti del suonare musica da parte di ragazzi non sono più interessati è uno strumento proprio esatto esatto sì 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 vogliono la per fare la traccia DJ probabilmente o la traccia io ho notato diciamo anche il figlio del mio batterista che ha otto anni che è fighissimo peraltro e quando viene in sala prove da noi nell'angolino c'è la batteria più piccolina montata per lui però pian pianino è un po' più scemato poi il papà è bravissimo perché non lo forza mai gli dice se tu hai voglia andiamo se non hai voglia non ci andiamo non deve essere una cosa forzata però sì pian piano va scemando l'interesse e già comunque quando vedevo che notava di più il microfono anche non lo so forse per praticità semplicità dice la batteria c'è da montare la roba dice il microfono vado su con il bottoncino posso urlare così non lo so l'interesse proprio per sé per lo strumento è calato è calato molto sì anche qui il digitale la traccia insomma tira sicuramente lo stesso programma per creare un beat oggi è infinitamente più facile di una volta guidato gratuito e quindi magari ci si approccia più anche il mio chitarrista è diventato bravissimo a scancherare abbiamo fatto le preproduzioni praticamente in sala prove con sette microfoni registrato tutte le batterie e poi bravissimo per essere alle prime armi dice noi dobbiamo soltanto riprendere i pezzi e vedere se girano ce li ascoltiamo un po' se non girano li modifichiamo è giusto per capire non è che avevamo delle pretese ho detto cacchio ho detto questo potrebbe essere un disco che si registrava nei primi anni 90 una band che vada a spendere 150 mila lire basta e moriva lì ho detto questo qua hai fatto un lavoro egregio per dire sette microfoni un autocanali io cantavo col mio microfono mi sparava la musica in cuffia ormai sì a livello casereccio ti puoi registrare anche il disco completamente anche se poi io consiglio sempre anche noi abbiamo fatto le preproduzioni a casa però poi andremo in studio lo studio va sempre detto il professionista è il professionista ma pensa andare in studio con una preproduzione a casa quando invece noi andavamo in studio e ti ricordi il dramma il dramma del batterista che va fuori tempo iniziano ad andare sui soldi inizia eh Goli quanti soldi hai fatto perdere i tuoi no molte band si rompono alla prima demo perché tu arrivi hai le tue vecchie 200.000 lire contate entri e iniziano e quello ti fa sono già passate due ore solo per girare due manopole e tu inizi a sudare quando iniziamo e poi parte il batterista scazza e poi sbaglia la seconda e vanno su arrivi 6-7 ore e devi ancora iniziare a farle chitarre e non hai più soldi oggi arrivi e dici ok abbiamo tutti un'idea di cos'è fare la demo arriviamo preparati in un modo diverso e l'errore sicuramente è un terzo di arrivare e vedere la sala prove come la cosa che non hai mai visto in vita tua insomma spesso ci arrivai proprio a scatola chiusa facevi il segno della croce e dici non so se ne esco vivo dissanguato sicuramente vivo forse chi lo sa e si litiga sono posti dove può succedere di tutto perché appunto quando cominciano a essere problemi di costi e quant'altro oppure anche di suoni che non avevi mai sentito perché li senti ah ma tu ti volti e dici ma quindi tu quel riff l'hai sempre fatto così tante band sono solte dopo la demo dicono ma te veramente canti così male no io non voglio avere niente a che fare con te ce ne è parecchie non ne sono mica poche sono situazioni particolari oppure inizi a farlo anche solo che tu sei abbastanza soddisfatto poi inizi a farlo sentire comincia a dirgli boh non è poi così perché quando comincia a sentirsi tutto perfettamente è un'altra cosa e avere una bella preproduzione in casa oggi aiuta aiuta io prima prima di lasciare voglio questa curiosità perché ho sentito un pezzo che inizia con i guerrieri della notte e la nostra radio inizia con un pezzo dei guerrieri della notte quindi voglio voglio sapere assolutamente tutto di questo pezzo del perché se anche voi avete la passione appunto per i guerrieri anche perché quando l'abbiamo messo in quel disco lì era il 2018 se non dico una balla era per il quarantennale dell'uscita del film i guerrieri della notte tanta roba sì sì uno tra i miei film preferiti sì 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 poi anche anche era il messaggio cioè secondo me ci stava bene all'inizio di un un disco hardcore ci stava bene cioè che poi tradotto in italiano è giochiamo a fare la guerra esatto esatto voi partite proprio con il rumore delle bottiglie e la frase questo è l'attacco del vostro album lì ti posso raccontare l'aneduto che peraltro non è esattamente la traccia originale del film perché le bottiglie vengono triplicate addirittura perché l'intenzione era dare fastidio ancora di più meglio ancora meglio quindi ve lo siete personalizzato insieme avete fatto sì poi quando vai in uno studio come lo studio 73 da Paso a Ravenna non so se lo conoscete madonna se lo conosco cioè lui è lui è una garanzia ex Pierre Studio lui bravissimo bravissimo fondatore lui quando vado là gli porto il mix per dire quello con i dischi precedenti invece questo qua andremo a fare anche le riprese andremo a fare tutto da lui di solito gli portavo il mix ho detto prova a sentire ci sentevamo in chat con quattro parole avevamo già fatto tutto ti manda quei cinque master che poi arrivi a un punto e ti gli dici scegli tu perché sono uno più bello dell'altro cioè non gli puoi dire niente e lui su quelle cose lì piace giocare così si gasa gli viene il sorrisino e ci pompa abbiamo trovato una cosa in comune con il nostro podcast mi ha fatto veramente piacere quando ho sentito quell'attacco ti farà ancora più piacere sentire questo podcast che parte proprio parte bene allora abbiamo l'idea che interpreta la radiofonica dei guerrieri della notte anche noi lo abbiamo reinterpretato per non per non prendere proprio solo il pezzo originale niente Guido io se non avete la domanda finale ragazzi lo salutiamo e lo ringraziamo presto lo vedremo vi vedremo suonare da qualche parte se c'è qualche insomma serata programmata o in progetto ah giusto e cita anche qualche qualche brano per cortesia che non li possiamo più passare ma poi mettiamo i link dei brani che chiave quelli a cui tieni a grandi linee abbiamo fatto tre video in croce quindi secondo me metterai il link di quei tre video lì quindi su youtube e direi anche di darci tu l'ordine cioè secondo te come dovremmo ascoltarli per un neofita che non conosce come consiglieresti di ascoltare la vostra musica Born Empty primo Born Empty Lost e Disquiet Distress ok quella triade sì e poi credo che la porteremo fino alla morte quella triade lì ci piace un sacco perché anche dal vivo fa saltare gli altri io non salto più ritorniamo sempre al discorso le costole però si fa saltare la gente si gasa e noi ci piace perché sono anche tra virgolette più semplici da suonare quindi figurati se la gente si gasa e noi facciamo meno fatica siamo felici in due giusto e poi dove venivi ecco colgo l'occasione allora per invitare voi e anche tutti gli ascoltatori il 10 dicembre al circolo Dev a Bologna è un venerdì è un circolino dove si suona molto presto quindi noi anzianotti siamo più contenti e chiude credo alle 10 e mezza con ingresso offerta libera e saremo in compagnia dei Total Recall una band devastante di Milano cioè una roba veramente sì hanno scelto di fare due band leggerine quella sera lì per fare premare un po' i muri e forse il giorno dopo forse siamo in un paese della Mantovana ma ancora in via di definizione però pian pianino qualcosina sta uscendo fuori comunque di certo c'è il 10 dicembre a Bologna ecco io ne approfitto per lanciare un'iniziativa con te che delle ultime band ma magari lo recuperiamo anche con i Celeb Car Crash che hanno fatto l'ultima intervista se ci passate le date noi le ripubblichiamo sul Discord dove vi invitiamo appunto a seguirci la nostra community e nella sezione magari posso aprire una sezione concerti e se tu mi tieni aggiornato io pubblico all'infinito le vostre date quando tu me le giri e io le rigiro e lo proporremo a tutte le band attive che intervistiamo mi piace molto bello molto bello molto bello sì ne approfitto per ricordarvi anche che ci potete seguire su Instagram e al mercoledì vi consigliamo un album tutti i mercoledì così abbiamo qualcosina che vi vi fa frizzare un po' oltre a dacci un'anteprima dacci un'anteprima cosa ci consigli mercoledì no non lo so lo decidiamo sempre all'ultimo abbiamo fatto dei gran classiconi per ora perché è partita l'iniziativa così ridiamo le basi è più è più per appunto un giovane che per magari noi lo guardiamo e diciamo vabbè ma quell'album lì era chiaro che lo mettevi non so un black album per dire però iniziamo a buttare le basi anzi Guido dicelo tu che cosa dobbiamo pubblicare mercoledì prossimo eh infatti screen for the gutter screen for the gutter dei raw power perfetto dietro a miliare mamma me dietro a miliare e noi perderete un sacco di ascoltatori no 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 secondo me secondo me è l'album è l'album definitivo peraltro l'ho registrato anche in America e anche ricordo i racconti il produttore non capiva diceva come fa una band andare così veloce così potente bello bello merita screen for the gutter grazie Guido allora mi acquisiremo di ascoltatori assolutamente non li perdiamo da più già no spero proprio di sì dai è stato molto piacevole fare una chiacchierata con voi spero di vedervi dal vivo dai facciamo una birreta insieme esatto il 10 dicembre a Bologna al circolo del circolo del ok circolo del perfetto perfetto cercheremo di non mancare allora ne approfitto a chiamarvi guerrieri questa notte vi ringrazio per l'ascolto bomba noi ne siamo onorati di questa cosa qua la Dungeon Bear Radio vi aspetta alla prossima puntata ciao a tutti ciao ciao ragazzi ciao a tutti alla prossima buongiorno a voi supermuscoli la caccia ai guerrieri è finita quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle beh ci dispiace davvero non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.